Oltre al divertimento c'è anche un momento di aggregazione. Quest'anno in Terneo abbiamo avuto la possibilità di invitare l'associazione Rino tra gli angeli, oltre alla squadra della nostra associazione, e poi come sempre un misto di ragazzi della temeraria squadra del paese con vecchie glorie. È un momento sportivo ma anche un momento estremamente importante per le attività della vostra associazione perché consegnerete una borsa di studio. Sì, attraverso questo secondo appuntamento, questo memorial in ricordo di Melissa, verrà istituita una borsa di studio da devolvere agli istituti genovesi e da Vinci di Salerno, e a cui già va il nostro grazie alla preside per aver accettato questa nostra proposta. Volevo approfittare di telecolore di questa emittente per lanciare già una prossima iniziativa, sempre con il genovesi e il da Vinci. Terremo col professor Pappone una conferenza sulla sindrome di Brugada.